salve a tutti benvenuti benvenuti in questo piccolo spazio dedicato un'attività didattica di tipo esperienziale legata al mondo della storia che avremmo dovuto fare insieme ma che a causa dell'emergenza non possiamo svolgere in presenza siamo l'associazione mira un'associazione di promozione sociale nel settore dei beni culturali e della didattica museale operiamo a foggia in diverse località della sua provincia gestendo le attività e i laboratori all'interno dei musei i nostri obiettivi sono la conoscenza la promozione e la valorizzazione del patrimonio archeologico storico artistico e naturalistico dei nostri territori nasciamo nel 2011 e da allora attraverso numerosi progetti dedicati ai bambini ai ragazzi cerchiamo di raccontarvi la nostra terra questo spazio è legato al progetto al buio al buio dal bando periferia al centro i luoghi coinvolti sono stati quattro meravigliosi borghi dei monti daoni casal nuovo monte rotaro san marco la catola pietra monte corvino e roseto diverse sono state le attività e gli incontri svolti per alcuni di voi manca l'ultimo appuntamento dal titolo la storia ha un senso in questo brevissimo spazio proviamo a raccontarvi come eravamo chi eravamo l'attività è legata al mondo della daunia e al popolo dei dauni gente venuta da lontano dall'illiria una terra oltre il mare oltre il mare adriatico l'area compresa presto a poco tra la bosnia artegovina e il monte negro re dauno era la loro guida il processo di formazione della civiltà daunia ha inizio nel nono secolo grazie anche al contributo delle popolazioni locali che abitavano queste terre terre ricche terre feconde la civiltà daunia si sviluppò in un'ampia area presto a poco coincidente con la provincia amministrativa di foggia includeva anche altre zone come il melfese e come parte dell'area barese le fonti pongono due fiumi come i limiti il fortore a nord e l'ofanto a sud questa gente abitava un territorio immenso presentava delle peculiarità si distingueva dalle altre popolazioni italiche per esempio per il rito funerario mediante posizione rannicchiata opposizione fetale realizzavano un tipo di ceramica molto particolare unica nel suo genere la ceramica geometrica c'era un uomo un grande uomo di omede sono di omede re di argo epica città della grecia col mio amico ulisse combattemmo la più grande delle guerre la guerra di troia dieci anni ci tenne impegnati ma tornammo vittoriosi in grecia mi rimisi in viaggio arrivai in daunia dove sposai evippe figlia di re dauno fondai una città arpi col tempo divenuta la più importante di tutta la daunia per indicare le proprie sepolture i dauni utilizzavano le statue stelle delle pietre di forma antropomorfa finemente decorata con ornamenti personali quelle maschili si connotavano per scene di guerra e quindi per oggetto di tipi di tipo militare scudi corazze spade lance vi presento gli scudi dei dauni e questo è lo scudo di diomede provate anche voi a realizzarne uno basta un po di fantasia un cartoncino della carta stagnola buon lavoro vi lascio con un pensiero dauni avetus dauni antica terra di eroi di re e siamo dauni per gli antenati per le antiche radici i legami di sangue per stirpe ma anche per indole siamo dauni per i miti le leggende per le tradizioni per gli dei dell'ellade come atena nata armata siamo dauni per la terra aspra e siticulosa ma anche generosa di grano prima verde poi dorato per l'ulivo mai avaro siamo dauni per i suoi guerrieri dalle sfavillanti corazze e dal lettore chiome per i suoi cavalli duri forte finemente bardati siamo dauni per le pietre parlanti monumenti storiati senza tempo per la nuda creta che diventa oggetto raffinatissimo siamo dauni per le grandi vierbose per i pastori a volte amici spesso sconfinanti siamo dauni per le sue fiere donne dalle lunghe vesti nere e dagli alti calzari il viso scuro le mani coperte e intimamente amiche di cassandra siamo dauni per diomede ritto come un colosso dopo la distruzione di troia si è dauni e saremo sempre dauni per le braccia tese si amo la mia daunia grazie 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 grazie